c'è bucchiale no no prima io prima io prima io prima io la rotina 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 come si gira dai 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 niente macchina mi dispiace per me no che volta c'è no 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 hai pensato che cambia aspetto coglione che coglione no con po' ve lo metto vado a vedere se te lo metterò la maglietta fatti fermi, vado a di sette lo fa fare no con po' dai fra sto punto fattelo bene posso metterli esci no no fra il metale ha scalato oh la prima mi ha scalato si ma comunque dovrebbero mettere tipo prima un avviso se si vuole modificare adesso bella eh infatti infatti a me sai che che mi è successo tipo eh ma c'è una minchia di occhiali non vedo un cazzo oh mi fa riavviare e c'è anche cerca si posso entrare no e vuoi niente brutto ah bucchia panesco adesso se vuol panesco adesso casinò mi dico ma mafuto no ma comunque è bruttissimo come cammine più per sé dentro il corso c'è metti un piede e poi accella e poi metti un piede e poi accella e poi accella ti manda il glitch oh dai mi dici ok vabbè come si va su glitch guarda cosa? ah vero ok allora c'è un'altra possibilità che ho perso perchè troppo che io lascio quanto 30 milioni quanto 30 milioni di dollari cosa? minchia sbagliato l'ho fatto male allora spero per me mi sarebbe una cosa 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 non no ariz E' un po' è sbagliato Oh, il cambiatore non è venuto, perchè mi sentite a scusare il cambiatore per la puccia Daiare Grazie. Perché non me l'ha fatto? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io non lo posso fare perché non ho... Lo stai facendo? Fra? Ti stai facendo il personaggio fatto bene? Ah, sì. Te lo fa fare femmina, vedi? Eh? Ok. Ma spiegami in che cosa consiste, che io non lo sto capendo. Allora, tu punta su un cavallo. Allora, vado... Scommetti... Ma metti solo un cavallo. Ma metti il primo. Il primo. Il primo. Ecco. C'è presenza dove che si vede la puntata che fai, che c'è la freccia a destra per puntare di più. Sì, sì. Eh, sì, tu tieni premuto là. Allora? Eh, 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 subito premi la freccia giù. Certo, non ho capito. Senza staccare il dito. Allora, tu non devi staccare mai il dito. Tu? Allora, no. Allora, aspetta, 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 sono nella schermata a scommetti. Io devo fare quello che avevo, giusto? Devo puntare quanto voglio, giusto? Punta tipo sul primissimo cavallo. No? Primissimo, canone spaziale, si chiama 4-1, la spunta. Eh, sì. Vai, non vedo dove c'è la freccia a destra per puntare di più. Sì, sì. Eh, ne tieni premuto X, che però vai subito giù, dove c'è messo scommetti, tipo. Tutto questo senza, senza, eh sì, ma per tutta la partita devi tenere premuto la X. Lo so, 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 lo so. Eh, sì, ok. Perché, perché è come se ti mette sempre più... È come se se tu punti tantissimo, però se perdi, te ne levano solo 200. Ok, quindi se il cavallo ti vince, se il cavallo ti vince, vinci tipo 40.000, 20.000. Ok, ho ancora lì la cosa premuto. Ora che devo fare? No, no. Lascialo quando arrivano, eh, lascialo. Ok. Ok. Scusate ancora. Ora che devo fare la seconda cosa sempre tenendo premuto X da quando... Da, da quando vai nella frecetta. Scusate ancora. Hai capito? Ok. Ok, vai, vai. Ok. Diciamo che non è possibile. Diciamo che non è possibile. Te lo fa mettere femmina? Se non ti sto uscendo dalla creazione del personaggio non ti sto debito da alcun coso. Ah allora! Vabbè... Inca però la volevo fare... Di nuovo un terzo è arrivato, un butti fino... Fariamo quindi la femmina te la fa mettere o no? No, no, non lo fa mettere. Ma butti devo lasciare... Butti mi devo lasciare la... Devo cliccare sotto X premuto e poi basta. Guarda, ti sto mandandommi una foto, vediamo se non ti piace. Sto cliccando premuto I e poi vado. Mi raccomando fagli il naso buono che io per... Che ho per colpa di un... Del naso che avevo una patacca come naso l'ho dovuto cambiare. Sto vendo una cesta. Ma... E' ultimo. E' ultimo. E' ultimo. E' ultimo! E' stai correndo un sacco. E' reprimo. Come vuoi? Dai 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 dai. Ha pratica di superare. Ma fanno lo terzo. Ma non lo so, Daniele. Se ti vedi come sai, risposto che facevo prima la gana. Ok. ma sto cliccando x per tipo scommettere di più è giusto e poi scendo subito giù per andare a scommetti lasciando x pronto è giusto tipo aumento i soldi e poi scendo giù subito ora vado a guardare l'aspetto ma di comoda no minchia che successe ho fatto non mi ha dato la foto si sto giocando a mare prima è arrivato in questo caso andiamo mi ha detto 15.000 fish non abbiamo dato nulla ecco bravo ora guarda deve fare all'infinito ma perché sono che cazzo è successo sono una modetta storia che cazzo però lo sai che forse è bastionativo tutte cose ma anche d'arte ah beh stai mi ha visto del gioco no no ma non gli dava niente semmo io partivo da 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 zero ma io ho mandato la foto da insordientata su gta eh non mi ha mandato un cazzo però so video ho mandato un cazzo il video su in 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 privato nella play ah nella play bello fra bello bello per quello che cosa ma state se niente ha fatto per te vediamo se non mi chiede sei che sembra di tindata non ti ho strontato accaduto si smira molto solo sarebbe divertentissima oscar anche furch ii face questo sento allora bucci grande ma stendere Alex io Ti vedi che i numeri non li vedo che aumentano comunque Che significa? Io i numeri quando lo faccio non vedo che aumentano Le fisce Sì, la scommessa dico Eh infatti non te li fa vedere Ecco il ricaccio di cavallo Vai 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 Pardino Quanto sto stermno 40.000 fish Ah ah Bella ragazze Fatata Dai forno mi piglia gente Che è il personaggio con tutte cose non so dove sono sarebbe divertentissimo sarebbe divertente ma svegliamo mi sa che me li ha scalato vediamo com'è il personaggio ma tutta sta cosa che tutti che ne ha capito da fare il personaggio come budget perchè orecchie è molto ingrecita tutto eh si eh si perchè 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 hai tenuto premuto x già dalla scelta dei cavalli ora devi uscire e rientrare dal casino come uscire e rientrare dal casino eh si ma perchè sbagliato a farlo no daia non me l'ha fatto mutati mutati che significa? ma me l'ha fatto ma non ti ha scalato soldi eh ma non me l'ha fatto ho pensato nulla ho pensato nulla butto non si trova eh rifallo eh amici chi si ricorda non lo fa dai ma sei vecchiona io sono vecchiona ma se devo poter ah la vecchia cazzo ma che mi devo rubare con un carro armato ahhh ahhh dici che non lo vuoi poi non te lo fa ma l'ho fatto carino dai però che cazzo ma l'ho fatto carino se non ho fatto dicendo che sti dei gay trrrrrrrrrrrr ma hai cazzo di cavallo sei ultimo sei ultimo ma hai finto più che non fa troppo stile ma hai finto ma non hai finto ma non lo capisco perché non posso trovare si è stambiato il tuo cavallo è arrivato quinto va bene allora Alex io per fare 900.000 fish ci ho messo un'oretta quanto quanto c'è di quante fish bucci 900k ah beh me sono stato fortunato poi c'è Francesco che coglioni in tutti i giochi che che ne ha fatti tipo 700.000 Alberto che è proprio è una cataprasi ma 300.000 Alberto Alberto nemmeno sa comprare le macchine gratis eh eh vuole fare ragazzi non è la mia macchina Gioiozza non è la mia macchina non ti hanno fatto modificare il personaggio Gioio Gioiozza una macchina non so è una zentorna è una macchinola la zentorna ma è proprio questa ma è il cavolo di merda corri 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 ma è la macchina ma è il zentorna nooo sbottiiii frala devi richiedere coglione ma che giri per la mappa se è così chiuso il chiamare il mecca ma la gente chi è che puoi chiamare all'idraulico ecco io ho sbagliato ma anche tu marry wether marry wether corri 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 la nostra che mi ha sbagliato ma se tutto accompagnato cioè prima dice no sto personaggio di merda non lo voglio la mia spontanza è intorno distrutta tutti vai allora respira cioè vedi alex queste cose fra ti ricordo che sono in live cavallo di merda la spazio la nessun cavallo si può guardare tutta la realizzazione di questa live ok francese ok ecco qua ok sono andata alla sicura razione adriana stile stiamo morendo ora 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 vai su zentorno lo chiamai meccanico la aspetta aspetta alla zentorno l'hai richiesta la zentorno te l'hanno data mi hai spuntato vall'apprendere vall'apprendere mi hai spuntato vall'apprendere la dagli sbirri un po' una ah c e perdone che mi fa adesso no ok no dobbiamo andare a fare il colpo la la pasione fiscale è proprio bello ma ma fotto 5 km intersegno ma la posso rubare dagli sbirri 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 non sento niente ok adesso oh fuck shit ah ah beh raga dammi di continuo se non ricorda a te prima per sbirri su sbicciarlo alex per smagarlo basta che esce la prima gente ma perchè devi devi spegnere ale che cazzo sai no 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 sacrilegio lo dice uno lo dice uno che se fosse il diamante whisky minchia fra manca tu tu ne hai le polle di fare questa cosa eh solo è mia no ragazzi una taglia di mille dollari è stata vista suddita fra fra ma sentite una nostra sessione che pubblica i sistemi in due infatti cioè ci divertiamo io io queste sessioni le amo perchè posso fare le scorte posso fare quello posso fare quello io non sono le vostre sessioni se wow oh mio dio se ecco no beh fra ma come 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 non possiamo prendiamo si chiama no no ah ding jester sportivo ah la jester io ce l'ho la jester ed è tipo dove ti da hai presente se hai chiamato assicurazione ti dice vai a prenderla zentorna in quel posto e da lì mi ha detto ma che ricorre il mio cavolo di merda ok corri corri rallenta tutte le di me vabbè ora arriva il 2 che fai i peggio numeroni figli la zocco figli la zocco figli la zocco buono ah ma ho perso adesso oh pazzì zocco ma ti la zocco sei un personaggio france allora richiediamo l'assicurazione se è un personaggio con un coglione però sei un po' un personaggio il proverso sportivo è disponibile al deposito di Morse Mutl per farlo andare nel mio garage e danni come dovevo fare chiami l'assicurazione ma che cosa? io ho chiamato l'assicurazione perchè mi hanno fatto spodere il veicolo giusto ah ora per farlo andare nel mio garage come devo fare già ce l'hai nel garage se lo vuoi... appena chiami il meccanico se lo voglio se lo vuoi... appena qua davanti se lo vuoi usare devi chiamare il meccanico se no se no già vedi che ce l'hai grazie Butti sensei minchia ti dico come si fa il glitch ti dico come si fa quello ti dico come si fa quello ma tu che mi hai mai detto che mi hai mai detto se ti qua negli altri giochi io sono il monopoli del monopoli hai capito? in... che giochi? in che sto stu gioco? che... che... che.. che... che... quando avate detto che mi facevi arrivare a platino mi ho fatto 13 kill e tu due coiono in una partita in un altro video schifo setto pure che muoviglio mi hanno sciocato da dove? cazzo non mi piaccia da dove cazzo mi sono buttato porca di quella tru ma tu hai minchia il garacidista minchia di arco a casa tua non fa un culo chi è lo spettatore? io non è vero che tu stai combattendo per per avere una macchina no scherzo è nel mio garage ah c'è Subban finalmente uno è scritto 6 la smetti Subban ho fatto ho fatto un botto di cose in questi giorni oh salto salata che bel nome mai dici che svegli un euro vabbè ragazzi sto andando alla prossima la so che sei tu Subban ciao vabbè ragazzi sto andando alla prossima con la prossima sono su due ruota scuadaro scuadaro e lo vabbè no 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 e ricchi è un 3 nella sessione buono buono cantina che dice che è piena che siamo in due unificati al sesso il GTA ogni progresso verrà salvato domenica botti ma se vincere un altro cavallo io che succede? eh? se punti su 6 hai meno possibilità di vincere ma se vinci vinci un botto vinci 200.000 però se vinci tutti quelli che vinci prima con gli altri cavalli però se vinci tutti i soldi che prima vinci con gli altri cavalli sono eterno quindi è meglio che è conti sempre con questo cavallo ma che mi che stai dicendo? oh che c'è il nervidoncino bravo subban insusta francesco no 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 vedi che ti vuole bene francesco subban vita mia è solo che è francesco corri 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 è stupido no maria 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 guarda l'ho perso come è diventato subban guarda subban guarda subban guarda subban mi chiamo alberto dice che esce con una ragazza ma in realtà sono con un gruppo la metà di quelle persone sono ragazze guarda subban guarda subban che me la metto nel culo tutto il giorno mentre dico scudaro scuro guarda subban Tu due come sicura 2 0 sonolair urf io 4 7 ecco molto da 9 la notostante la la non la 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 le che quinto pun non No vedi che Francesco va in giro con le fefe alpina e rosa Dani, andiamo a modificare la mia auto Ancora, cosa lo dobbiamo fare alle 5 di pomeriggio? Eh, Michio, ma se vuoi quel coglione mi fa esplod... Vabbè, niente, mi dobbiamo fare un pochino di piggio No, no, vengo, vengo Eh, ma io non la voglio modificare, sai perché? Perché non ho le cose belle sbloccate E allora va a fangu Oh, vabbè Io mi sto facendo la scortina dal bunker Dani Dica Ma se tipo... Cioè io adesso ho soppato a zentorno Poi ne posso comprare quante ne voglio Certo No, 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 che significa? Oh, 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 ovvio che devi pagare Rieccomi, ok, vabbè Asensi che gioco a zentro Eh, quel vecchio но non ne voglio Muosto, fai I mi ritrovato Che comunque V8 beh, che si, si ah, da morì! non vuoi guardare, non vuoi guardare è ultimo il secondo è bello ah, da morì, da morì viglio, 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 viglio corri, 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 corri si vede che è una gaiversa in sta moda è questo con la sto cavallo di merda, sto cavallo di merda c'è ragazzi, io mi trovo all'uscita uno con una grotti turismo R ma se sei andato a sezione te sei minchia con la cosa con la cosa, con la cosa con la cosa, con la cosa devo pensare che sia minchia una trocce se potremmo azzarda quanto costa quanto vuoi per questa merda quanto vuoi ma io non è per cosa ma vuoi che quella vedi che la 6.250 oh scudiavolo ma con 6.250 mi faceva questa madre è la dignità con la macchina questa la mia dignità è la dignità di tua mamma graffatardo è la dignità di tua mamma è la dignità di tua mamma bello sto giro io dico i cavalli che ho votato delle notizie che mi piacerebbe ci dico invece quelli che poi voto se non li voto io no no ne ammazzo ma è marco l'altro? no l'altro è alex ma ormai tu ben conosci a tutti ma è un pro come c'è il più bersone di alex come c'è il più bersone di alex? mamma wow schietta vabbè io ero morto sottontato il terzo tra poco lo faccio a moderatore su ban eh mi devi a me esatto esatto dica no e viene mia madre con scupe di fuori e mi dice passalo con la cucchiarella glenio è fatto spoglio alex sono alla tua sinistra timidire per noi vai 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 vai... eh eh Alex 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 su ban... Alex su ban ha scritto vai Alex ma io sto con te ah 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 ammazza tutti ammazza tutti chi? pedoni, butti... no ma non possiamo ucciderci no 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 perchè siamo in tre eh 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 e Alex sta facendo... io non so se la facisco perchè mi hai distrutto la macchina Super! Ma che cosa? Alex sta facendo dei glitch, io sto facendo delle missioni turno, turno, turno! Sì Ah, c'è la, ah, c'è la, c'è la, c'è la Ah, sì, sì Ah, quella di afferci fuori, ah La quale di afferci fuori Ha vinto il sei, ha vinto il sei, butte ha vinto il sei Porco diagolo Ha vinto il sei Il mio cavallo è il terzo Mi si stanno rompendo l'X per quanto lo sto facendo Mi si stanno rompendo le ocche È un momento sativico Devo ti fare il mio cazzo di cavallo Sativico Corri, corri, corri È una parola che tocco non vedo la scelta Ma sta zitto L'avrei imparata Dalberto Angelo Non è il secondo, non è il secondo boss No, 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 il primo, il sesto Ma è una pizzo Fai una pizzo, non si fa Il secondo spettatore è io, Subbano Burguiavolo Daniele feschi Ah vabbè, vabbè, vabbè Ma io perché te lo cofano lì? Subbano, questo canale è triste Ma solo tu ci sei Invitatemi Infatti, che bravo moderatore che sono Sì, se ne è, ma sai come si chiama sta live? Il mio cavallo non si chiama Non è vero Coglione Moderatore Moderatore Sì, tra un giorno Sarà un coglione Guarda il pompa MK2, Subbano Tale che stile Noi li entriamo tutti con i coglioni Come a Subbano Boom, boom Fra Cioè, non l'è Se non lo è È Subbano Che cazzo dici? Dai, Fra, la smetti M compari Ti capisci? È il migliore iscritto di sto canale Del mio canale Ho detto di sto canale, non è il mio, per tuo, per nostro, per nostro, per vostro Capite? Sì, ma io non riesco fuori, voglio vedere quanto va a costare Dai zitto Ma io non sto zitto Beh, salto Alex che inizia l'attare Alex, devo uscire Subbano dice che dovete fare 1v1 Chi vince Eh, c'è troppo napo Oh, no, verrà la bendizione di Don Bulti Una rota andata Due rota andate Adesso si stanno prendendo A Bob, Subbano Quattro andate All'esplode La posso anche guidare, ma chissà Che bello Farà diventare un fondale marino Fala diventare un fondale marino, Alex No, no, non voglio perdere i soldi per una macchina Pasolosa Dai, la fai Ah, a Spesso, Banti, faccio vedere quello che ho comprato No, ragazzi, non ce la faccio più a Frigli Ce la spesso, oltre che mi dà il bag Bravo, bravo, bravo Ma perché tu non devi premere X quando scegli i cavalli? Devi tenere premuto X da quando vai nella freccia Eh, che cazzo faccio? Mi credo che le palle, questo faccio Se no Tu sei zì Cos'hai sottodile? Cos'hai sottodile? Cos'hai sottodile? La fai spargare la macchia, dai, siamo qua No, 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 no Siamo qua, dai, che buonoSabri Dai, dai, la leba Dai, dai, mi faccio il culo bastardi Non stai faccio il culo bastardi Le faccio un mondo Uh cosa è stata questa esplosione? Ehm Barlock Ciao mille Pardon me ninja E' tutto questo sto giocando con la minchia di cosa Pensavo con la minchia di tipo No ragazzi è la quinta volta che ci provo La quinta volta che mi dai il bug Che ci provi a giocare con la minchia di fuori Dissuzione Dissuzione Lo sai perché non ci riesco a giocare con la minchia di fuori Finalmente è che dice bene il mio nome Cacetto mille bobby brown Mille bobby brown Perché come è che ti chiamano? Mille bobby brown Quel che fa action 11 Eh si lo so C'è uno che nella traire cosa è che si chiama mille bobby brown No si chiama mille Millie 67 Ah e tu lo chiami mille po' più brown No la chiamo mille appunto Perché com'è che ti chiamano mille? Vuol di uscire da questo? Ulti non ce la fa! 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 Su caffè! Non ce la fa il mio! 20.000! Vai così! Sono arrivato a 203.000 fish così easy fish Oddio! Allora chiamano millie Ah! Ma vedi che sono Magic English Alcuni mi dicono millie Ah si ok E' quello che ha fatto la Johnny English La terra che ha fatto per i Mr. Bean Ma chi? Dai secondo! Io voto sul secondo Sai perché? Ma siete amici? Gli altri non sono British come Butty Ha capito tutto Realmente sto facendo il devasto in città Vai corri corri stranzo di me No non la conosco Ok Non la conosco Mamma grande Ma quando mi piace ci arriva a 5 stelle? Oh cazzo Ma te la vincere il 2 A te la vincere il 2 Mi incazzo A te la vincere il 2 Mi incazzo A te la vincere il 6 Mi incazzo Ancora di più Che volete? Che faccio? Sii! Strono! Oh! Mi spiace Oh! Oh! Altri Oh! Ah! Ah! Ma! 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 Mi chiamano i miei amici Mi chiamano i miei amici Millo! Ma non c'era uno su GTA dove c'è sul pc Dovevi scaricare una specie di qualcosa? Di qualcosa? Entrivi in questo server? Ed era quello della vita reale Dani! Dica Sai con chi si è messa Millie Bobby Brown? Con Snap? No! E' un attore famosissimo! Dai! Spara! Uno dei più famosi! Ricci Ricci! No! E' uno dei più famosi! Che è piccolo! Non lo so! Non lo conosco! Mil... Mil... Milvem! Milvem! Lo sai con chi ha? No! Chi ha? Marco Caltagirona! E' uscito dal port! Esci dal port! Esci dal port! Oh! Anche ti immagini se Marco Caltagirona fosse con i miei Bobby Brown? Vuoi dire che Marco Caltagirona è un pro? Manca riesce a prendersi a quella, alla Cagliano o alla... C'è, t'ora dove finì? Zappavi! Che ha detto? No niente Marco Caltagirona... Ma quanto caldo c'è qua? Da... Da... se punti solo sul 6 dopo dieci minuti penso che vinci 270 mila fischi solo uno sul 6 6 non c'è la donna non c'è il vento fresco fresco sto vicino alla montagna che che culo io sono nel mezzo della sicilia che mi stanno pure le palline ma non è riconosciata siamo andati al telecomandino fra forse sarei fottuto mia madre c'è butti già con il mio suono di città 5200 posso giocare con te ultimo certo che puoi giocare ricorda le porte del signore sono sempre aperte no fra ti giuro lo stavo dicendo io ti giuro ricorda che le porte del signore come mi chiamo aspetta mettiamo così su psn si è butti il vero il solo è unico in i mini 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 tabbile butti tutto buccia nanzi il secondo con un attimo è di uno punto sai Ma Fra Fra non mi ha salvato le modifiche Dall'insurgent Perché? Vabbè Ti metto moderatore Dai Fatto Vai 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 Corri 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 Ha vinto di uno il 6 No 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 Io veramente Io no 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 Il 6 Il 6 Il 6 Come caccia che me l'ha fatto? Ma fai una cosa Butta 21 sulla Solo sul 6 E vedi che vince un botto Sto buttando solo sul 6 adesso Ti fottomod su banca Io ho una sera che ci trovo e ti po' Avrò Due volte o tre volte il so Dkpuff Il 6 Il 6 Il 4 Il 7 Il 11 Il 6 Il 6 giudicente dalla minchia non te li ha salvate e ti ha levato i soldi infamino butti cioè non solo mi leva le munizioni nemmeno voto tutt'ora guadalu ho fatto con sei ho fatto con sei ho fatto con sei bravo che è quello di me hai il death bike cos'è il death bike cos'è il death bike cos'è il death bike 280 mila cos'è il death bike cos'è il death bike cos'è il death bike ah no se non me lo sbloccati ti giuro scuola è una moto ah la cargoyle non l'ha cargoyle modificato che poi in tutto questo io sto giocando col bordello no no compa no compa non mi ha saluto un cazzo compa minchia frappata ma ti ha levato i soldi eh si ai 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 no peccato perso sono arrivato perchè è un po' ma un problema ma quanto hai speso eh tanto eh tanto eh 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 penso che ci senti se ti invito al party no eh dica milly ma subbannella la play ovvio milly milly ehm aspetta un attimo sono uscito dalla sessione per vedere se mi ha salvato le modifiche del a lui dell'insurgent si si a lui ciao milly com'è che posso chiamarti scrivi chiamato action no action scrivi nella shoot della live tipo come posso chiamarti se va bene milly non lo so come vuoi vabbè ti chiamo milly allora o buffo oppure action no scherzo action sarebbe action sarebbe molto più meglio scherzo ma secondo te francesco come cazzo faccio a sapere tutte queste cose che non avevo manco che non avevo manco che non avevo la play eh giusto il resto non il resto non il resto non lo leggo poi è scritto scherzo vabbè ovvio se sto vincendo a manetto comunque grazie all'uno cioè io almeno oggi mi sono fatto più di un milione se volete vi faccio vedere come si fa un glitch non è che io lo faccio anche io mi faccio va bene allora su buona scritto purple no purple è un bel nome purple purple what's mi chiesto chi è che si chiama purple è un amico bm di marco ma secondo te francesco come cazzo faccio a sapere tutte queste cose se 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 non avevo la play ma da logica l'hai lasciata nella pancia di tua madre no eh eh dai dai sta scherzando wow ma guardate guardate il nightclub ah pure io lo posso alzandorno mi dispiace vieni i mille di invito nel nightclub purple Alex, quanto hai fatto con il gris? Con il gris ho fatto di 800.000 dollari Ti ha scritto ti voglio bene, Francia Quanto hai fatto? 800.000 fish ho fatto Vedi che sta spammando come un cane Io in una giornata mi sono fatto 1600 Ma perché mi avete ribaltato da zentorno? Eh, ti ho detto Ah, rompila, testone Aspetta, fai una cosa Non darmelo a rosa Ok, giallo Ancora la vendetta non lo hai effettuato Io ho 2 milioni di fish Io avevo un milione di fish Ma ora ho 4 milioni e mezzo Però voglio capire perché non ho l'insurgente pick up Fai Ammi dai, adesso, pagami la zentorno Se vuoi ti faccio ribaltare Che cazzo di maschera hai messo? Non è una maschera Ok, l'ho ribaltato, va bene ora? È la pittura facciata Perché adesso è insurgente? Ho detto va bene ora Non è un insurgente È un insurgente È un... Come fai andare ad avere la stessa scarpa? Dimmelo Ma alla fine l'hai preso, Dani No Aspetta, fra, aspetta, fra una cosa For una cosa, fra una cosa, fra una cosa, aspetta, aspetta Dai, fra Non ti vedevo, sei venuto Vieni mille Mi dico, non ti deve venire niente dai coglioni Vieni mille, scendi Hai ribaltato, manco mi hai ribaltato la macchina Non mi tira ci un razzo, Ale Sono quello dell'arena Ah, capisco, capisco Dato minchia che si esce da qua, sì E le Bobby Brown No, minchia, me l'ha fottuta la cosa Bella, sì Alex Eh, mi dispiace No, sono quello dell'arena Sto prendendo, fra Sto prendendo, fra Adesso Adesso Oh, dai, un po' di divertimento, devo staccare adesso Ecco, prendiamo Lascia il caro armato qui in mezzo, che cammina da solo per la sua strada Eh, è fighissimo Magari lo rimboghi il personaggio da onda Ma la apri anch'io Non mi piace Tu sei fatto male Tu sei fatto male A che ora giochi domani, domani è tardi Mamma mi ha detto che sono bellissimo Alla mamma ti ha fatto un bambino speciale Gli hanno preso il coso Vabbè, rega, io sto a coprire Di chi era? Era di Dani Cosa? Buonanotte, rega No, hai cangialli, me l'ho ammazzo Me l'ho ammazzo Io abbiamo fatto secondo me Buonanotte, rega E di chi era buonanotte, rega Eh, su Ciao, subano Eh, l'hanno sequestrato Ma se ce l'ho qua Non so mai se si siano il pedo Sì, no? Ah, no, ma ce l'ho qua Insurgent Pickup Custom Mamma mia che sca... Oh Oh Candola Vieni, guarda che ti faccio Vedere Non so se tu ce l'hai No, me la scavazzare, scendi Questo è il ca... è il cangialli Penso che sia uno dei vicoli più forti Subbandono e non spegni Non spegnete Dai, rimani altri dieci minuti Fra Aspetta, divento... Divento MC Sì, sì, vedo delle cose interessanti Eh, eh Guarda ora che vedrai Ok, minchia, l'ho messo il coso Vabbè Vabbè Oh Che stai facendo, Millie? Ma che livello è Millie? 131, ok, adesso Fra, fra Fra, buttiamo fuori Jack e Jonathan Ma peccato che devo andare a riprendere GTA da un mio amico Vabbè, tranquillo Spero che te lo ridò Jack and John Sì Guarda questo Che vuoi dire, Danny? Buttiamo fuori Jack and John Che stanno nella sezione nostra Oddio, che macchina è questa? È stata nella sezione Sì, Fra, sì Nessuno O, ho se potremmo Guarda, era scottile Guarda 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 Sto fattendo... Fran... Fran mi ha fatto scantare appena non l'ho visto. Non ti dicevo, ma com'è mai? Ma anche... Dall'insurgente mi è diventato un veicolo personale, ora. Ah... Cioè, hai scusciato con te il pendone. No, no, mi sta parlando... Dai, magari se mi ha rotto... Che ha fatto? Che ha bucato lo tele-ruoc... Puglione... Che cosa succedeva a casa? Cosa brutta, mi trema il W. Non è qualcosa di interessante. Allora, ti ho fatto vedere... Questa. 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 Di armi. Poi ti ho fatto vedere l'Oppressor. Questo. Ti ho fatto vedere questo. Che altro ho? Ho il... Ho il... Vabbè, io mi ho tutelarmi il rosa. Ma è schifo, sei un che di merda. Eh, arricchio. Ah, questo ce l'ho rosa. Questo è una forte dei gay pride. Questo no. Questo sì. Questo... Questo... Questo. 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 Qua... Sì, sì. Mi fa... Mi fa... Faccio un test se vuoi. No, no, ho visto gli armi. Se ti potrei reggare la sette gay. No, no, ho visto gli armi. Se ti potrei reggare la sette gay. Però io avevo pensato che non c'è contento. Però non so la forte del... C'è questa qua che... Che sarebbe... Un mg? Che queste sono... Mica, mi ha fottuto... All'insurgent. Questo... Questo sarebbe... Queste tre sono tutte le armi... Nuove. Vabbè, questa penso che l'hai vista. Ma questa serve un po' di più... Per il cazzeggio. Cioè, guarda. C'ho pure l... L'Avenger. Ma quanti glitch ha fatto? Fammi vedere la... No, la... L'Avenger. Aspetta, 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 aspetta... E come faceva a spostare i veicoli da un garage là? Non mi ricordo. Forse si fa manual... Manualmente. Talla che è figo l'Avenger. Ma giochiamo solo a GTA troppo belli? Mi faceva cagare prima... Ok. Talla che è tosto l'Avenger. Vabbè. D'accordo. Minut They called me? Paquino. No, non la pesanta, non la pesanta. Tutto luego sì! Quedate piang. Notabli od дня. Non le vengono a sennare. Law cerco sono tới... L'Avenger. Grazie. Mi porti al nightclub? Dove stiamo andando? Sapresti dirmi un gioco con queste caratteristiche? Aspetta, no, mo' te lo dico. Oh, attento! Questa colorazione è stranissima. Ah, sì, tutti invitati. Allora, deve essere online e zombie. Salva il mondo. Non gioco online con gli zombie e salva il mondo. Sennò è un altro gioco online con gli zombie apocalittico. Boh, qualche cod. Fai uscire i tuoi amici. Perché? Perché? Da dove, dal garage? Ah, fra, entra, entra. Sali tu. Sali davanti, vero. Easy. Aspetta che ho una stella. Oh, fammi salire. Ma è solo due posti? È, è due posti. Ah, è? Oh, ok. Sei dentro, fra? Entra. Entra. Non mi fa salire, compò. Devi salire per forza dietro. Ok, ok. Ma da dove? Oh, sti cazzo di, di sbirri. Vabbè. Da, da dietro come? Aspetta. Penso ci sia una porta da dietro. Perché io volevo proprio vedere il dietro. Ah, ma niente. Non mi fa salire, non mi fa salire. Da qua? Devo stare qua? Ok, qua. Ah, che figata. Ah, chi è? Io voglio dare dietro. Vediamo, vediamo se è bello. Oddio. Ah, è tipo, eh, sì, è tipo, tipo quelli militari, che bello. Allora, qui ci sono un po' di cannoni. Bello, la vangere appena mi compra la base operativa. Ma, ma quanta gente ci entra qua dietro, Millie? Sono infiniti i miei colpi. Penso di sì. Sono infiniti i, 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 i colpi, Millie? Sì, ok, bell. Ti ci ha fatto salire, lei. Le... due. Ma do' troppo figa, sì. Invitaimi nel, nel MC. Ok, aspetta. Aspetta un attimo. Se guardi... Io vorrei, tipo, gettiamo a zombie. Ma zombie. Gettiamo a zombie. Eh, magari. Sì. Vai, sali. Perché è tutto, Naro? Ma fottuscire. Ah, vabbè, vabbè. Quanta polizia che ci sta. Vabbè, è un fattuoso. Eh, va fan culo, va fan culo. Ma va fan culo, va fan culo. Questo piccolo personale è stato da Aime. Sì, hanno preso in ring. È insolgente il... Sarebbe un botto figo tipo un server, te, giochi, metti, amici, sì, esatto. Quindi io devo andare là sotto? Non posso richiedere l'assicurazione? No, la Winnie. No, vabbè. Fammi entrare. Sì, non è una tag. Ma... Ma che cazzo... Eh, è quello dell'Arena War. Oddio! Oddio! Ok, sì, che saltavano... Non lo sapevo. Spara anche! Eccolo! E' due posti, dai. Sì, sì. Ma per salire a Francesco, spara. Sari, però. Allora, vai... Vado dalla Ubisoft e chiedo un gioco così, esatto. Eh, questo tanto, questo. Eh, fa... Puffo, facciamo così, allora... Per dire sì, tu spari. Con la macchina. Per dire no... Non fai niente. Allora... Che ti devo chiedere, mi sono dimenticato, va a fare un cuore. Secondo te, tipo, che veicolo è... Bello da comprare dell'Arena War? Questo scrivelo in live. Perché ne vorrei prendere uno. Ma sono indeciso tra... Tra l'Imperator e la... La ZR33380. Eh, questa pure è una da marrata, eh, dai. Se ci sta. Ah, non la issi. Nessuno, ok. Ah, minchia, vero. Mi c'è vuola gargoyle. Oddio! Ma fate i salti alucinanti. Fraccio, andiamo a modificare la gargoyle, vediamo com'è. E dai. Chi ha un pasto, l'ora? A voi. Non lo sanno. Minchia, vuole che faccio la... Nella missione. No, aspetta, devo fare sta modifica. Cioè, sta missione del... Dal... Come cazzo chiamo? Eh, fida. Sì, però con questi soldi, tipo, li volevo usare per la base cooperativa. Pardon me. Non dirlo, non dirlo. Non dirlo. Ma chi è che ti aspetta a casa di notte, io? Esatto, bravo. Ah, ma chi è un altro? E' un altro... Eh? E' un altro eco dell'Arena War, questo? E' sempre quella però modifica la TRS. Com'è fatta? Ma sta un video, se lo guardò. No! Aspetta... Eh, spero un po', eh. Aspetta che il linko... ...la live... Bellissimo. Oddio, i cannoni tipo là, serve... Wow... E' sempre una persona... ECCOLO, ECCOLO! Sì, eh... Ma sono lo sereno, ci siamo aggrappati una persona allo... ...scri... ECCOLO, ECCOLO, ECCOLO! Oh! Mark... Mark, ma tu lo sapevi... ...il... 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 delle fish chi è? lui è Marco si chiude la porta che dici? ti ha detto oh Marco Marco subbandisce tutto a posto Marco Marco compa tu sai Marco sono andata nella nostra sessione che si sono messi benissimo siamo solo noi tre vero? si infatti mi sono fatto delle scorte una missione del netclub su Ben ha scritto si si tutto bene oggi cosa fai adesso adesso tu Ben me lo chiedi pure che se è su GTA secondo te che cosa? se viene da Xbox su GTA che cazzo si può fare? solo bordello si può fare che te posso? no questa macchina la voglio con la quella di Mr Bean oh no quale? ne ha preso un'altra ma questa devi vedere bello ma che stai facendo tu? una missione esteticamente è qualcosa di bellissimo e che stai facendo? oh no sto perdendo dagli amici dal DJ nuovo così ah si per avventare la parità così da penso 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 10 mila ogni presto io sto sull'erzo guardare la live fai bene fai bene sì sì Marco comunque cazzo cerca di di volare più basso come uno di loro sono soffrendo ma cosa ma 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 c'è uno che ha panico ma 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 c'è un po' troppo coglioni oh bello c'era la dove rifare un nuovo fa fare più c'è Marco hai capito che mica è successo si si sto come faccio casare ma che è migliore ma cosa dallo super dallo super 5 anni riscritto della settimana subano cazzo 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 porca di quella troia mi senti subano e il frisco devi fare il miglior scritto della settimana elicottero di merda porca di quella troia mi vieni a prendere con la fanzo dai di mi 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 ma ho fatto di cosa è pagata casino ma no la la parte la parte forco di avuto un castrato marco mandami la richiesta mi chiamo x fire ali domani giochiamo marco invidimi le facciamo in due frate no no io pure 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 si ma perdiamo la sessione io non la voglio perdere perchè solo se magari devo fare qualche scorta e ora che senso perdiamo beh me ne sto fottendo perchè la sessione è da solo no siamo solo noi nessuno che ci cacca le palle quindi si possono si possono fare sportare veicoli su sfrombot i soldi e cose cioè gli ho ammazzato gli amici al dj dai un po facciamo vabbè rai dai da 50mila più se tanta mila botte tra fra Io pure, io pure Marco quanti soldi hai ancora? Non li ho spesi Con la scusa di Tre missioni che ho fatto Delle casinomi mi sono fatto 200.000 Come? L'hai fatta senza di noi? Quando? Con altri a muzzo Mink Ci potevi aspettare Marco c'era il tempo di fare Una missioncina La facciamo subito Sì perché a me manco spunto Quindi mi dovrebbe chiamare Va bene però me la fai finire Non è che poi fai È occupato che sta parlando Con il signor Cincianciang Io non la ruota nel mento Marco vedi che Oh 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 siamo fatti il terreno 900 mila io ho spiace un miglior senso ma dai ma guarda che mi ha scritto mink eseguiti minchetti ti levo modo subano 70 subano 70 mi ha scritto e marco no marco sta in missione la fa occhi chiusi ma butti fa cagare allora super se faccio un canale li faresti gli account fake per gli iscritti marco ma è inutile è una missione ma come racconto sto vedendo a mozzo ma ragazzi ho una potata all'espulsione di questo finocchio che è entrato come che si chiama questo che è entrato dream play youtube intanto gli ho già fatto per butti cosa intanto gli ho già ah come l'hai fatto per butti quando non è vero l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto alex è uno quello la che che qui me li ha levati ah 2-3 account ok 23 12 oh è per marco mi sono fatto in idred scusa le tue il tuo mingone di fish d 300.000 scambiatele in sol tanto Ma dai! Tutti se ne scambiano in soldi! Ecco, vedi... Mi sono comprato da... Cento orno! Bravo, bravo, se si... Ok, mi ha chiesto dodici volte... Ma se ci vado... Almeno un altro... Noi la ritiriamo, però... Ma che macchina è, Aaron? La cosa brutta è che non vinci sempre! Da fastidio! Vabbè, se mi metti nell'uno... Ti lo so, se mi metti nell'uno... Tipo due, tre volte di fila... Che non sto vincendo più cazzo! Marco, te li fa vendere i veicoli! Quali veicoli? Ah, non lo so! Siamo al casino! No, Diego! Minchia, ma siete diventati... ... la migliore amici! Ma che sta facendo vedere tutti i veicoli? Che ti ha fatto vedere? Tipo... Ehm, vabbè, quella dell'Arena Water? Quante... Dai, dai, io sto... Sto vicino a quel cazzo! La macchina di Batman! Ora c'ha progetti i venti! La GTA! Ah, minchia, la macchina di Batman è bella! Ah, minchia, la macchina di Batman è bella! Sì! Poi dove mi ha fatto vedere pure! Ah, raga, ma voi li potete attaccare a sti manifesti? Sì! È fatto! Minchia, ne ho dodici! No, quel cazzo! Dai, dai, fatelo un paio, per favore, per favore! È lui il guidatore! Bravo, Puff! Puff, sì, con un po' più giusto! Non tu che è! Ti... Ti stenda la sua macchinina! Buonanotte! Ma che mi sto volendo la vita? Dai, guida tu! Ma... Marco mi sono modificato nell'Intrugent Pick-Up nel COM! Eh... Come devo dire? Che cosa hai fatto bella? L'ho fatto tipo rosso, sì, sì, sì! Eh, al solito! Poi devo... Che significa? Corre da... Che cosa... Che cosa vorresti... Rosso! Ah, rosso! Sì, ma è da frocio! L'ho presso! L'ho fatto rosa! L'ho presso rosa! L'ho presso rosa, frate! Ciao, io sono Subban! Oh, bella Subban! Fra, ma tu non ne capisci un cazzo di stile su GTA! Perché vabbè c'è tutte le cose in rosa? Eh? Ce l'ho fatta... È una forza di pelle! È una forza di pelle! È una forza di pelle! Rosa fucsia! Sì, però... Spesso... Spesso... Il viola poi... È un... È veramente un colore... Vabbè, ma voi vabbè stai scialando! Adesso... Sono io Subban! Oh, quanti accanto hai fatto! C'è la curuma tutta metallizzata! È figliissimo! Ma... Marco, Marco, mi so che con gli ultimi soldi che ho mi voglio fare... La base operativa! Ma sai perché? Perché... Daniela... Chi ha? Perché non facciamo gli attacchi... Quelli della poverizia! Ce li ha Marco! Poi deve pagare! Bella! Bella poverizia! Sì, vabbè... Li posso fare 65 mila... A preparazione! A preparazione costa! Però vedi che l'ultimo attacchio è... Amo stato vinto 8 milioni! E che cazzo! E che cazzo! Vabbè, non sto vincendo più! Oh, oh! Chi è? Oh! No, raga, meglio potete... Meri potete... Attaccare... Al... 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 Almeno bene! Stia andando! N...! Una di santi... Devo fare quello che è vicino a voi! Mi fai scendere dall'alto e mi fai sparire per prenderne un'altra No, please, Puffo Butt, l'ho fatto per te, grazie, subendo Vai No, aveva preso il motore quello che ha preso E avete tutto quello che vai andare È me che ha preso Prosto Ma Puffo è che c'è il soldo noi Che non ho là? Marco lo faccio anche per te se fai canale No, poi tra lo faccio perché Quello di... Che è il post Wow, lecca gula No, no, lecca gula perchè lei è brava difensatore che mi ha insultato gli iscritti hai insultato a hai insultato a subano che gli fa suba ruba l'h ho tutto salvato tutto tutto non è vero bella meglio cosa è bella meglio ah si è vero io non provi ciò non ho un pugno in testa che ti lascio in terra in stato di morte apparente bella questa me la segno sei modificato sei utile come il petrosino me la potessi attaccare poi Dani c'è altro che mi sbatte le linee in faccia è lo sveglio domani guarda ci ci sarà un altro account ok ah si sta andando in quel manifesto ok marco tu che auto mi consigli dare una world da comprare perchè ci avrei la cargoi che che se si modifica diventa mondiale tipo z willix ah ah ma milly dove è andato ma ma milly è con francesco che si che stanno divertendo sono diventati i migliori amici mi ha fissato in manifesto ah uno due uno dall'altro miglio due ah abbiamo 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 pittato io abbiamo pittato non ti va bene niente voi io non lo so ma io non l'ho capito ma non l'ho capito marco ma senza il mio ehm ct si dia aspetta dani ti ho scommesso sul cavallo ti ha ventiquattro cose se vinco mi dà tipo centomila il cazzo è ultimo ti farei giusto e che ne sai marco ma ti farei giusto dai che fu il mega recuperone dai voglio scommettere anche un po' di big money non è billion hands money girl perdonmice vince vince sempre quello con meno cose con meno si marco io vedi che prima che vinceva quello sai quanto minchia vero non posso scommettere più se ha più se ha più di sei cosa se ha più di sei mila se hai scommesso e ti dà ci vince ci sto oh marco intanto vinci a occhi chiusi ti do la mia fortuna dai marco punto su la punta sul sei che il tempo la sua fortuna con la tua fortuna ho perso sul bar dai sul sei ora devi puntare ora guarda sul sei ora vai ora 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 ma la sento marco sai che vuol dire una storia ragazza quanta macchina ti ha fatto vedere che tu non hai compa 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 ma si mi ha buttato fuori ehm buffo mi accompagna quasi no c'è pure marco marco per marco per eh per sbaglio tipo vabbè niente ma sta macchina è abbastantemente bella no full set non c'è il set certo il massimo è il 6 ah ok niente fortuna non c'è ma tu dove sei nel mio night club che sta succedendo il delirio il delirio il 7 è il mio numero che porta fortuna ma marco e all'orlette è appunto a 5.000 sul set lo and 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 Ancora non è così popolare Ma Marco comunque Per Per fare più soldi dovrei comprare Facciamo un raduno dipende di cosa Marco è qua che si sta Fattendo pure l'anima Sì che cosa vuoi fare un raduno Ma Marco tu hai E' un grosso Se io Facciamo tipo macchine quelle di Bennis che saltano Che fanno Marco qua mi dice che devo Che dovrei comprare tipo Devo essere tipo un laboratorio di metanfetamina Sì lo so La cosa costa un botto Cioè la più bassa è 800.000 Ma diciamo vero Ma sono quelle del nightclub Sì però Quelle del MC Ah sì sì scusa Devi comprare dal costo MC Ah per forza Ma vedi che ti danno un botto di sfide da fare Che c'è a vincere No 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 Anche se sei inattivo E poi fai Vendi tutte le merci Ti danno tipo Un milione a vendita Tre milioni Un botto Però tipo con 17 vendite 12 milioni si possono fare Se hai quelle giuste Con 17 vendite senza Senza il coso un milione 17 vendite hai 12 milioni Non ho capito aspetta Non ho capito Poi hai le merci Tutte al massimo Vendi tutte le merci E ti possono dare Tre milioni Quattro milioni Tutti sono Perché qua dice Tecnici Perché I prodotti Io Trasporto merci E articoli da caccia Eh I primi due Che ti danno Le fault Merci Te ne fanno fare un cazzo Perché Quelle non sono merci Che ti fanno fare Quelle sono cosa mozza Oppure Ogni tanto Dai Che costano un botto E che compro Aspetta Ora vado nel mio MC Quanto hai il tuo risotto? Sai divertiti un po' Dai Eh si lo so Io ancora ho 4 milioni Mezzo Per mio Mi volevo fare La base operativa Quindi Con la base operativa Raduno di Ferrari 2 milioni se ne vanno Anche di più 2 milioni se ne vanno Marco 2 milioni Se non ci metto niente Ah vabbè Se tu Te la vuoi comprare In un posto No No subban Non rimani Bene appunto Lo dobbiamo fare Cazzeggio Time Su Bene restare Dai bene Facciamo un po' Di cazzeggio Col Motors E col Club Però Subban Un po' Un po' Un po' Di drift Dice che ha sonno Vabbè sei sonno Non posso imparire Mi lasci così Subban Subban Non lascia Marco solo Ecco lo faccio Per Marco Bravo Che per Marco lo piange Ecco bravo Chi fa compagnia a Marco Che per piange Marco piangi Eeeeh sto piangendo Eeeeh Datemi un fazzoletto Eeeeh Dicchiamo un fazzoletto Come sempre E' quando quando C'è di Di serio Donia Dimmi Invita Minel Ti invito Nel Motorcycle Alla Span Puffo c'è Ancora Si Marco tu quanti soldi hai Invece Un milione Duecentomila A che ti vorresti Comprare Un cazzo Ah minchia Ti hai Devi ottenere Per la modifica Dal Dal terror bite Cose cose Non c'è Ma non c'è Non c'è Tanto Le modifiche sono Solo Grazie Se ne aumentavano le prestazioni Ma me lo facciamo Scusate Non raga mi dispiace Sono stanco Scusate Raga domani Ah beh tranquillo Va bene Va bene Vai tra Non devi scusarti Se sei così stanco Che fanno Scusate c'è sempre puff ma se faccio qualcosa provo a fare qualche colpo adesso vedo se ci sono le mie missioni ah infamarka vi ho qualche preparazione di quella no le mie pacifiche quelle del casino ti dovrebbe spuntare agatha baker se entri nel casino abbi io so abbi su allora marco mi sto ottenendo i soldi allora marco la meno costosa è l'ufficio di documenti che cosa 650.000 quanti soldi hai fatto quanti soldi hai fatto 80 oggi quasi 2 milioni mille vuole cazzeggiare ora da 300.000 sono arrivato a 600.000 quasi 2 milioni non è fruttato bene 3 però io vorrei fare perché tipo poi me li levano col glitch semmai li devi spendere perché poi capisco con i soldi sporchi tipo li devi spendere infatti me li tengo in fish perchè le fish non li possono togliere semmai semmai mica puoi da sommare milioni di fish te li fai 50.000 la botta ma 50 50 vediamo io adesso pure faccio così cosa è di mili questo cosa ma che che di piccolo è è quello da Marco Marco sai che mi compro sai che mi compro la serra dell'erba ma costa 700.000 il costo di cocaina meno costoso quant'è? eh un milione 100.000 ah no si non 975 vabbè ho quasi un milione anni tu che atti comico si devo comprare che ha quello meno costoso fra il minimalista c'è qua 2 milioni Marco me ne compro uno cosa? di questi di questi si ma uno non ti fai tanto se c'è tipo 75.000 vabbè ma sempre di più perchè io perchè io perchè io per sbaglio perchè io per sbaglio ho comprato un 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 cosa in più capiti ho comprato un 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 due ne ho comprato un in più che non sapevo gli hai comprato tre e il terzo non sai dove mi chiamare ah eh non sai prendere l'ufficio documenti che costa 600.000 se non la serra dell'erba che è per 700 mila consigliano in tutti i video che mi sono visto no Allora prendi il costo dell'erba Allora ho un po' bancarote con tre fatte Ho erba o tipo Allora mi prendo la serra dell'erba dai Ma me lo va a mettere in culo Invece quello più costoso dove me lo mette? Me lo mette in città quello più costoso Che volta siamo morti Ci interiamo pure con la moto La 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 moto bianca Cazzo puoi provare? Vieni Ma si è levata la Marco se faccio tutto Se faccio tutto Minimal mi costa due milioni e ottocentomila la base operativa Prova un po' cagare tutto minimal La base operativa? Ma perché prendendo un po' la voglia? Va fatta a mozzo E io a mozzo l'ho fatto Come? Tipo tutto scuro E io a mozzo l'ho fatto Allora prendiamo una Una città ci catafottiamo in Europa Sto catafottiamo di che è bellissimo Me lo so Catafottiamo E' la città ci catafottiamo E' la città ci catafottiamo E' la città ci catafottiamo Il foto Il foto Il foto Marco Allora Marco la base operativa tutta al massimo Costa 5 milioni Tipo fai conto 5 milioni Si 5 milioni Cosa quanto un cazzo di E la base operativa serve solo per Per il colpo E' per il E' per il cannone orbitale Che costa 750 mila un colpo per sparare Cioè tu spendi 750 mila per Per ucciderlo Ma perché non c' C'è una Cazzo di MG Ma in faccia Allora Se metto E' la città ci catafottiamo Tutti Bye I colpi in test Perché Marco Perché voglio la base Operativa Oltre a fare i glitch Per Per avere tutti quei veicoli Tipo i cangiali Tutti quegli elicotteri Aspetta Non devi cazzo sparare Perché se no Sto offrendo Una missione Del Casino Secondario Milly mi ha detto Che devo comprare Nel costo di metanfetamina Vedi che è il miglior Se no se compro la base Operativa in culo Io ho Quella in culo Da livello Accanto al bunker E' in fase Se me la faccio Accanto al bunker Va bene Vediamo Ah si Era uscito un glitch Un milione e due Un milione e quattro Due milioni e sette Quella là Due milioni e cinque Due milioni Aspetta Ma l'MC non costa un cazzo Ah no aspetta Ah infatti Non costa duecentomila dollari L'MC Io mi sono andato a comprare Quello che 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 non costa un cazzo Mentre Meno 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 Potevo andare a prendere Uno bella al centro Che costava solo Cinquecentomila Cioè due La prima La prima Non avevo un cazzo di soldi Ma se lo faccio diventare Tutto Tutto nuovo Due Marco 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 ahahah zitti zitti spendo a Marco che c***o ahahahahah se stai zitto fra ahahahahah ah spero non farei bordello che... che ce la buvo lascia la zona fra portami via c'è milli eeeh lo ti devo portare affanculo c'è l'hangard se lo metto se lo metto con tutte cose mi costa 3 milioni e 400 mila oh bello dai ne ho fatto 26 mila dollari nella cassaforte non hai di più tipo del... ne avrò fatto c'è Marco a dir... non ti ricordi che ieri avevo 6 milioni? ehm... ma guarda ne ho 4 e mezzo ecco vai ho la... ho la... ho la... ho la missione del... cosa la facciamo raga? non è... non è il casino eh mamma eeh cattaccio diciamo di tu prova dal letto ma è il prossimo dlc quando esce? ah ma è il prossimo dlcv quando esce? di dlc quando esce non lo so marco ma tu c'hai tutto operativa hai tutto si ma lo basta io ho messo il giusto preso c'era comprata tanto per tanto per freddy glitch tra due anni il prossimo dlc anni con l'h ha scritto tra due anni senza h poi ha scritto anni con l'h ok c'è qualcosa drammatica che lui non fa però non te lo fa quando fa no marco quindi tu hai fatto le prime tre io ero quella che ti manca mi sono corretta ah certo quindi ora devi fare ora devi fare quella del cinese quella della vigna devi invitarmi ma c'è sì vabbè devi fare quella della vigna quando sono bello è fastidio che non le posso avviare che significa che devo aspettare che quello chiama il problema se non fai aiuto aiuto ma non è giusto che poi alla fine il casino se lo prendono i cowboy la c'è marco pulito ma sta marco se mi fa vendere dei veicoli si ti andrà ti andrà mi 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 Aspetta un millesimo che mi fa vendere sta merda Marco me lo fa vendere Marco Marco me lo fa vendere Marco Che cosa? I vigli li fa vendere Vabbè Dopo Mi ha invitato? Si Ah Marco ce l'ha prodotto scontato Costa un milione e ottocento e novanta Come tre Chiarre le minneone Non me li fa vendere più Minchia Marco sempre che felice Marco No Non me li fa vendere 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 Non me lo fa vendere Trocamo Che bello No Che bello Dove Trocamo Io amore da un nome amore con o marco la lista musica di merdo la devo togliere assi ammiglia il meglio io non lo voglio anche se si è un amato ma dopo frasi un p l'ho che cazzo ormai piccola sondino dove prolungare il tempo vabbè fra entra ci guardi e amici tanto la figlia marco schifo testo chiusa a sperare un momento se non è possibile pericolo pericolo non mi spunto manco nei cosi Ma Marco te la fa schippare e caso me la perdiamo? Mi spunto, mi devi vuoi dimmiare. Che cazzo dimissione è questa? Questa l'ho fatto. Ah, quello dei texani. Ah, sì, è quella della vigna, è quella della vigna. Cazzeggia, ma Milia, aspetta, stiamo facendo 6 missioni per aiutare a Marco. No, minchia, sono dietro come un... ah, no. No, sono io solo con la botta. Ah, ma è quella missione che abbiamo fatto con te, che è un botto più pezzo. Sì, quella del 6km della minchia. Non, non? Avory e Thornton, Duggan. Le txani, ha fatto un'economia privata di cerco. Ciò che vogliono, si possono ottenere. Con ogni modo necessario. Ci sono stati rinforzati molte volte, ma non ne prendono nulla per una risposta. E ora, stanno spettando il prezzo con tutte queste tante. Mi chiede, davvero? Il cliente che vanno a la dama e vogliono perdere la loro dinero, e non mi chiede a loro. C'è nessuno qui è per cominciare un combattimento, è un risultato. E non mi chiede a te, ma non mi chiede a te, ma non mi chiede a te, ma non mi chiede a te. Tocca un tasto dolente. Ti ha lasciato lui? Col tuo migliore amico? Oh, c'è Nottsalvo. Ciao, Salvo. Bella, Salvo. Che? Che minchia c'è? Non è Nottsalex. E' questa la seconda volta. Minchia, se l'incoccio lo insulto. Ma per avere il nome in live, Daniele non ci capirei. Dove minchia stai andando, Marco? Ah, vabbè. Io 15, no, cari.